Tommaso Pena scende in bici verso il santuario Madonna dell'Oriente di Tagliacozzo. Guarda, c'è il santuario Madonna dell'Oriente, ma questo è anche il borgo Oriente, frazione Tagliacozzo, e passata qua a Oriente c'è l'altra frazione Spratati, sempre comune di Tagliacozzo, perché ci sono nuove abitazioni, vecchi, fabbricati, e quindi come c'è l'acqua, questo è un paretto, ecco qua. Guardate un balone, veramente bello, c'è il sole, quando dici i borgo, ecco qua il santuario, ecco qua il santuario, c'è la freccia, santuario Madonna dell'Oriente, icona del VII secolo.